Ciao a tutti e ben ritornati in questo nuovo video e buon anno a tutti! Come vedete sono in una location diversa perché oggi farò un video dove ripercorrerò insieme a voi il mio 2019 dove sono successe tantissime cose belle e piene di emozioni, quindi iniziamo subito! Gennaio! Allora, a gennaio sono successe due cose. Ho aperto il mio profilo Instagram e da allora è un anno da quando l'ho aperto e siamo arrivati a un traguardo di 10.000 follower, quindi vi ringrazio a tutti. Un bacio! E poi ho aperto la rubrica delle LOL Surprise dove le spacchettavo. Ciao a tutti e ben ritornati in questo nuovo video! Oggi sono in compagnia delle mie LOL per unboxare questa! E' sempre della serie 1 come la scorsa e vediamo che LOL ci capita questa volta. A febbraio è uscito il mio inedito ribalto tutto! A marzo sono arrivata a 100.000 iscritti su YouTube e abbiamo fatto una festa con una torta. 100.000 iscritti! Con la mia buona torta vi saluto! Vi ringrazio ancora per i 100.000 iscritti e ci vediamo al prossimo video! Ciao! Poi a casa mi sono arrivati ben 3 silver botton perché 3 canali differenti hanno superato i 100.000 iscritti. I 3 canali che hanno superato i 100.000 iscritti sono UBB Dance, sigla e villaggio e il mio canale Sofia del Baldo. Ad aprile è nata una collaborazione con Amazon Ecodot Alexa. Alexa, apri Veo Veo! Ecco Veo Veo! E sempre ad aprile è uscito un altro mio inedito, l'Aquilione! Vedo riflessi nel cielo, acrobatici a bracci del sole, sembra un aereo che corre, che disdegna e rallentatore, la tua scia di note leggere, leggere, piccolo aquilone, aquilone. A maggio ho fatto lo spettacolo al teatro Rossini, la magia di Walt Disney. Ma certo! Il corpo è l'arpa dell'anima. Magari basta dare un corpo a quelle anime per poterle sentire. Prima di partire tuo zio mi ha fatto vedere delle cose che stavo in scatolando. Seguimi! A giugno ho fatto uno spettacolo con il coro Grillo d'Oro per la festa del maestro. A giugno c'è stata una carrellata di video di cover di Tormentoni Estivi. La musica, la playa, l'estate, la festa. E sono un arrogante e non mi importa se non sei più dalla mia parte. Calizzo! Corri ragazzo nei vicoli, cento sirene negli angoli, nessuno cercherà nel tuo cuore. Dimmi dove e quando? Dimmi dove e quando? Sento l'estate che è già nell'aria, le nostre ombre sopra la sabbia. E almeno fino al mattino, mambo salentino. Travolti da lo stress, delirio universale. Basta solo non pensare. E non voglio vivere tutte le vite, vedere ogni posto nel mondo. Vincere tutte le volte, esser sempre forte, uscirne senza graffi sulla pelle. Perché tu, con quell'aria delicata, con un fiore tra le dita, bevi un'altra margarita, poi mi dici che è finita. Ad agosto sono stata ospite DJ Axe ad un suo concerto a Noci e abbiamo cantato insieme Tutto Tua Madre. Ed è stata un'esperienza bellissima e Axe se mi stai guardando un bacio. Ad agosto è un senso più profondo. A settembre è arrivato in famiglia Lapo, quel mostriciattolo, sempre pazzo. E abbiamo iniziato la rubrica Lapo Life. Perché ti stai arrabbiando con i miei pantaloni? Perché? Lapo, vuoi un po'? Visto che ti sei mangiato una ciotola intera di crocantini, vorrei anche questo, no? Immagino. Ad ottobre ho fatto le selezioni per il Tour Music Fest. Il tour mi toccano, io corro nella mia maradona. Non vedo l'ora che potrà finire la mia scuola. Oggi mando tante fammi sai. Mi farò carbonare senza fare troppi guai. A novembre ho iniziato la rubrica Baby Trap. Io non so se tu mi sentirai radio. E sempre a novembre ho aperto uno shop con le mie magliette e felpe. E se vi piacciono e volete vederle o acquistarle, c'è il link qui sopra oppure di sotto nelle descrizioni. A dicembre è nata una collaborazione con Kids Planet. È un'app per bambini che potete scaricare anche voi sui vostri telefoni Android. E dove ci sono tantissimi contenuti e giochi per bambini, tra cui i miei contenuti, quindi i miei video. Poi sempre a dicembre c'è stato il concerto di Natale e i saluti di Natale ovviamente. Ti auguriamo Buon Natale! Ciao! Che dire, questo 2019 è stato un anno incredibile, pieno di sorprese ed emozioni nuove. E questo grazie anche a voi, perché continuate sempre a seguirmi e a supportarmi. Spero che questo video vi sia piaciuto, lasciate un bel like e buonanileventi a tutti. E sicuramente ci saranno tantissime altre sorprese nell'anno nuovo, quindi preparatevi. Ciao! Grazie a tutti!